...cambiata, ma non sono saputo adattare con il cittadino. Bene, grazie mille e io ripasso la linea. Benissimo, grazie Benedetta. E quindi, ascoltiamo con la voce in cittadinoziale e iniziativa, iniziativa, in assoluta, e nei problemi, andrano su altri compagnoni, davanti, accettare i pazienti, o il terzo posto, c'è Frizza, un po' solo da gli angoli, dice Vittorio Marzo, per la voce, la voce, la voce, la voce, la voce, la voce, la voce. E' un'altra spazio, la voce, la voce, la voce. La voce, la voce. E' un'altra spazio. Grazie a tutti.